Problemi di infiltrazione d'acqua in via Giardinello Saieva a Favara. Come ricorderete, il problema è stato al centro di una puntata della nostra rubrica La voce del cittadino, trasmessa martedì scorso. Due giorni dopo il nostro servizio e precisamente nella giornata di ieri, tecnici di Girgendiacque si sono recate nella via ubicata nel pieno centro storico nelle adiacenze della piazza Giarritella, per un sopralluogo. In zona ricordiamo che le infiltrazioni d'acqua causate dalla mancanza parziale della rete fognaria risalgono per capillarità nelle strutture delle singole unità abitative. La stessa signora Costanza, per risolvere il problema umidità, aveva effettuato a sue spese dei costosi lavori di isolamento e di impermeabilizzazione che però non avevano prodotto i risultati sperati. Ieri Girgendiacque si è occupata del caso. Da una nota stampa che la stessa società gestore del servizio idrico integrato nella città di Favara ci ha inviato, si legge che non era a conoscenza del problema. L'azienda scrive Girgendiacque, dopo un'accurata verifica interna, ha accertato che nessuna segnalazione è stata inoltrata da parte dell'utente o del comune di Favara. Nel comunicato inoltrato, comunque, la società Girgendiacque si dichiara pronta ad eseguire in zona necessari interventi. Sono venuto dai tecnici di Girgendiacque e ho dimostrato loro qual era il problema e mi hanno detto che riferiranno a chi di dovere. Io non ho comunicato a Girgendiacque perché la mia questione è una questione che risale prima che l'acqua e la fognatura fossero privatizzate e quindi io avevo una questione aperta con il comune, perciò non mi sono rivolta a loro. Anche perché io ero stata già convocata dal sindaco Russello, il quale mi aveva detto che avrebbero provveduto all'incirco un anno fa, ma io ancora non ho visto niente, per cui mi sono rivolta direttamente a voi. Io vorrei ringraziare per il servizio fatto, è stato un buon servizio ed è stato, a quanto pare, molto efficace. Io vorrei ringraziare per il servizio,